Marco Carta, nato a Cagliari nel 1985, perde il padre malato di leucemia all'età di otto anni e la madre, affetta da tumore, ha dieci anni, venendo così affidato alla nonna materna insieme al fratello maggiore. Il 28 ottobre 2018, durante il programma televisivo Domenica Live, ha fatto coming out per chiarire le speculazioni sulla sua sessualità. Nell'intervista ha rivelato di aver avuto un malore a giugno dello stesso anno, che ha richiesto un intervento d'urgenza durato diverse ore, prima di essere dimesso dall'ospedale, smettendo le notizie iniziali che lo indicavano come causato da un'ulcera. Il 20 ottobre 2007, Marco Carta entra a far parte degli alunni della settima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nella categoria Cantanti. Il 16 aprile 2008, vince il programma con il 75% delle preferenze, ottenendo un premio di 300.000 euro e firmando un contratto con la Warner Music Italy. Il suo primo singolo, Ti rincontrerò, è tratto dall'album omonimo uscito il 13 giugno per Warner Music Italy Atlantic Records e raggiunge la terza posizione nella classifica Fimi Album. Durante l'estate del 2008, inizia il tour promozionale dell'album. Il 3 ottobre dello stesso anno viene pubblicato in concerto, il primo album dal vivo di carta, che raggiunge la decima posizione nella classifica Fimi Album. Il 1 dicembre 2008, durante la seconda edizione del premio internazionale WhatsApp, Giovani talenti, riceve il premio come miglior giovane talento 2008, miglior voce emergente. Partecipa anche al film d'animazione Impi Superstar, Missione Luna Park, come doppiatore e interpreta la cover di That's the way I like it, inclusa nella colonna sonora. Il 21 febbraio 2009, Marco Carta vince il 52 anno Festival di Sanremo nella categoria Artisti con il brano La Forza Mia, ottenendo il 57,62% dei voti e scritto da Paolo Carta. Il singolo rimane per sei settimane consecutive alla seconda posizione della Top Singoli e, alla fine dell'anno, risulta essere la pimo gitto brano più scaricato del 2009. Il 20 febbraio esce il suo secondo album in studio, La Forza Mia, che raggiunge la seconda posizione nella classifica Fimi Album e ottiene il disco di platino per le 70.000 copie vendute. Nel mese di aprile 2009 viene distribuito il suo secondo singolo, Dentro ad ogni brivido. Il 16 maggio, Marco Carta riceve i premi Man of the Year e Best Magla One of the Year ai TRL Awards 2009. Il 30 aprile inizia il Marco Carta Tour 2009. Durante lo stesso anno, Carta vince due Wind Music Awards per i dischi di platino ottenuti con gli album Ti rincontrerò e La Forza Mia, oltre a un premio speciale RTL 102.5, il premio Sirmione Catullo 2009, come Rivelazione dell'anno, e il Venice Music Awards 2009, come Miglior Artista dell'anno. Il 16 settembre conclude il tour estivo dopo cinque mesi, e il 26 settembre, Dentro ad ogni brivido, viene votata come Hit Summer Song 2009 al Coca-Cola Live ed MTV, The Summer Song. Il 2 ottobre entra in rotazione radiofonica il singolo Resto dell'Idea, terzo estratto dall'album La Forza Mia. Il 17 dicembre viene pubblicata in esclusiva su Dada.it la cover di Imagine di John Lennon. Poco prima della pubblicazione del suo nuovo disco di Inediti, a partire dal mese di aprile, Marco Carta è stato testimonial del nuovo canale di Mediaset La Cinque. Anticipato dal singolo Quello che dai, scritto da James Morrison e adattato in italiano da carta, il 25 maggio 2010 esce l'album Il cuore muove. Durante un'intervista, Carta ha dichiarato L'album ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana e dal disco è stato estratto anche il singolo Niente più di me, che è entrato in rotazione radiofonica il 10 settembre 2010. A maggio 2011, l'album è stato certificato disco d'oro per le 30.000 copie vendute. Nel 2011, Carta ha vinto il TRL Awards 2011 nella categoria Best Talent Show Artist. Inoltre, nel mese di aprile, esordisce nella musica classica come voce recitante nell'opera Pierino e il lupo di Sergei Sergeyevich Prokofiev. Il 19 novembre 2011, Marco Carta ritorna nella scuola di amici per registrare il suo nuovo album, accompagnato dal suo manager Alfredo Cerruti Jr. Il disco, intitolato Necessità lunatica, viene pubblicato il 10 aprile 2012 ed è anticipato dal singolo Mi hai guardato per caso, uscito il 23 marzo. Il 31 marzo 2012, Carta vince il Nickelodeon Kids' Choice Awards come miglior cantante italiano e inizia un nuovo percorso ad amici partecipando alla prima edizione di Amici Big insieme ad altri ex concorrenti del programma. Durante il programma, le sue cover raggiungono le seguenti posizioni in classifica. Situno Welves alla sesta posizione, Alta Marea alla nona e Penso a te alla sesta e, come se non fosse stato mai amore, alla decima. Dopo aver vinto tutte le Golden Share per il brano più scaricato e mantenuto il primo posto al televoto per tutta la durata della gara, Carta è l'unico concorrente a vedere i suoi singoli entrare in classifica Fimi. Nonostante la sua posizione di primo al televoto, viene classificato quarto dalla giuria e termina il programma al terzo posto dopo ulteriori sessioni di televoto. A luglio riceve il premio barocco con la motivazione. Affinché l'energia, la grinta e l'enorme carica di sincerità artistica siano uno spunto per tutti i più giovani pugliesi, il Comitato ha deciso di attribuire uno speciale Terra del Sole Award a Marco Carta. In Italia, il 7 settembre, viene estratto il secondo singolo dall'album Necessità Lunatica, che porta lo stesso titolo e viene presentato durante il concerto di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone all'Arena di Verona. A settembre 2012, Marco Carta incide il suo primo singolo in spagnolo grazie al contratto con Warner Music Spain. La versione spagnola di Mi hai guardato per caso si intitola Casualmente Miraste ed è pubblicata contemporaneamente il 21 settembre in Spagna, Argentina, Cile e Italia. Nel novembre 2012, i singoli Mi hai guardato per caso e Necessità Lunatica vengono certificati disco d'oro per le oltre 15.000 copie vendute in digitale. Il 18 gennaio 2013 esce il terzo singolo Scelgo me. Il 29 gennaio 2013 viene pubblicata una special box contenente i suoi primi 5 album Ti rincontrerò 2008, In concerto, 2008, La forza mia, 2009, Il cuore muove, 2010 e Necessità Lunatica 2012. Nel febbraio 2013, Carta riceve una nomination ai Kids' Choice Awards 2013 come miglior cantante italiano e vince il premio il 24 marzo. L'8 aprile 2013, il singolo Scelgo me, terzo estratto dall'album Necessità Lunatica, viene certificato disco d'oro per le oltre 15.000 copie vendute. Il 26 aprile 2013 entra in rotazione radiofonica il quarto singolo Ti voglio bene che esordisce alla decima posizione della Top Singoli. Il 28 giugno 2013 esce il quinto singolo Fammi entrare che raggiunge successivamente la nona posizione della Top Singoli. A giugno, Marco Carta partecipa nella categoria Beagle Summer Festival 2013, un evento composto da quattro tappe tenutesi in Piazza del Popolo a Roma. Il concerto successivo viene trasmesso su Canale 5 il mese seguente, suddiviso in quattro puntate. Nel mese di settembre Carta riceve due nomination ai World Music Awards 2013 nella categoria Best Song per i brani Ti voglio bene e Fammi entrare e nella categoria Best Video per Ti voglio bene. Nello stesso mese ottiene anche una nomination ai Latin Music Italian Awards nella categoria Best International Male Artist or Group vincendo il premio. A dicembre, Marco Carta riceve il premio Roma Videoclip come special award per i brani Ti sorriderò e Dentro ad ogni brivido inclusi nel cortometraggio Insieme. Durante un'intervista radiofonica Marco Carta annuncia di essere al lavoro sul suo quinto album in studio che prevede una varietà di stili musicali tra cui alcuni che si avvicinano al pop rock americano e che affronteranno anche temi sociali. Nel mese di luglio 2015 attraverso i social network comunica la conclusione ufficiale delle registrazioni del nuovo disco. Il singolo che anticipa il nuovo album è Splendida Ostinazione pubblicato il 16 giugno 2014. Scritto da Federica Camba e Daniele Coro che hanno curato anche la produzione insieme ad Alfredo Cerruti il singolo debutta in vetta alla Top Singoli e viene successivamente presentato dal vivo durante la partecipazione di Carta al Summer Festival 2014 candidandosi al premio RTL 102.5 canzone dell'estate 2014. il brano ottiene anche la certificazione di disco di platino dalla Fimi per le oltre 30.000 copie vendute. Il 20 settembre Carta partecipa alla seconda edizione di Buon Compleanno Mimì al Teatro Dal Verme un evento in onore e ricordo di Mia Martini. Nello stesso mese riceve due nomination ai Latin Music Italian Awards Best International Male Video of the Year per Splendida Ostinazione che vince e Best International Male Artist or Group of the Year. Il 1 dicembre Marco Carta pubblica l'EPI natalizio Merry Christmas che contiene sei brani classici dedicati al Natale. L'EPI è arricchito dalla partecipazione di un'orchestra di 34 elementi e presenta arrangiamenti e atmosfere che mescolano pop e swing. Il singolo Jingle Bell Rock viene estratto dall'EPI e due giorni dopo la sua uscita viene accompagnato dal relativo videoclip. L'EPI debutta alla Teretetici a posizione della classifica Fimi Album. Il 5 giugno 2015 esce il singolo Ho scelto di no il secondo estratto dal quinto album di carta. Il videoclip viene presentato in anteprima sul sito di Vanity Fair tre giorni dopo e appare su YouTube il nove dello stesso mese. Il brano raggiunge la 22-dua posizione della top singoli ed è presentato al Summer Festival 2015 dove viene candidato al premio RTL 102.5 Canzone dell'estate 2015. Il 23 giugno 2015 Carta pubblica il suo primo libro Ho una storia da raccontare edito da Mondadori. Il libro ottiene un buon successo commerciale entrando nelle classifiche tra i best seller e tra gli e-book più venduti su iTunes. Il 21 settembre 2015 Ho scelto di no viene certificato disco d'oro per le oltre 25.000 copie vendute in digitale. Nello stesso mese Carta riceve due nomination ai Latin Music Italian Awards nella categoria Best International Male Video of the Year per Ho scelto di no e Best International Male Artist or Group of the Year. Il 3 febbraio 2016 Marco Carta viene ufficialmente annunciato come concorrente dell'undicesima edizione del reality show L'Isola dei Famosi che inizia il 9 marzo. Rimane sull'isola per 55 giorni venendo eliminato in semifinale con il 36% dei voti. Il 22 aprile esce Non so più amare il terzo singolo estratto dal nuovo album promosso anche dal relativo videoclip. Il 27 maggio 2016 viene pubblicato ufficialmente l'album Come il mondo che debutta in quinta posizione nella classifica Fimi Album. Nel mese di giugno Carta partecipa alla quarta edizione del Summer Festival con il brano Non so più amare. Il 22 luglio 2016 esce Stelle il quarto singolo estratto dall'album. La canzone è scritta da Andrea Amati Giulia Anania Marta Venturini e Valerio Carboni è accompagnata da un lyric video pubblicato su YouTube il 2 agosto 2016. Il 10 settembre 2016 Marco Carta riceve il premio Navicella Sardegna assegnato a personalità sarde di nascita o di adozione che hanno dato lustro all'isola. Marco Carta annuncia attraverso i social network l'uscita del suo sesto album in studio Tieniti Forte previsto per il 26 maggio 2017. Il 21 aprile viene anticipato dal singolo Il Meglio Sta Arrivando scritto da Davide Simonetta Raig e Luca Chiaravalli. Prima della pubblicazione ufficiale dell'album iTunes rende disponibili in anteprima i brani dalla stessa parte e Finiremo per volerci bene. L'album debutta alla quinta posizione nella classifica Fimi Album e alla decima nella classifica dei vinili. Nel maggio 2017 l'emittente televisiva Nickelodeon trasmette uno spot che annuncia che Carta interpreterà la sigla del cartone animato SpongeBob. Dal settembre dello stesso anno partecipa come concorrente alla settima edizione di Tale e quale show su Rai 1 uscendo vincitore. Il 21 giugno 2019 pubblica il suo settimo album Bagagli Leggeri composto da dieci brani e accompagnato da un tour promozionale. Nello stesso anno esce anche il libro Libero di amare scritto da Carta e Marco Rettani e pubblicato da Baldini e Castoldi. Il 6 novembre 2020 in collaborazione con Angemi Carta pubblica il singolo Domenica da Ikea insieme al relativo video. Due anni dopo rilascia il singolo Sesso Romantico scritto in collaborazione con Marco Rettani e Matteo Faustini e prodotto da Enrico Palmosi. Nel febbraio 2024 partecipa a Tale e Quale Sanremo. Il 31 maggio 2019 Marco Carta e una donna di 53 anni Fabiana Muscas vengono arrestati con l'accusa di furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo a Milano. L'accusa sostiene che i due abbiano rubato sei magliette da uomo Neil Barrett del valore di 1200 euro. Tuttavia il 31 ottobre 2019 a seguito di rito abbreviato Carta viene assolto in primo grado con la motivazione di non aver commesso il fatto. Il giudice ha considerato il movente dichiarato da Muscas che voleva fare un regalo di compleanno a sorpresa per Carta come oggettivamente riscontrato e coerente con la data di compleanno del cantante avvenuta dieci giorni prima del furto. Il 14 dicembre 2019 la Procura di Milano presenta appello contro la decisione. Tuttavia il 7 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Milano conferma l'assoluzione in primo grado l'assoluzione in primo grado